Una spirale bellissima che racconta di tanta storia, lo dico per loro che magari non sono così vicini come ho modo di essere io in questa giornata, sono inchisi, pensate, tutti i nomi dei vincitori della Giro Italia, partendo dal 1909, da Ganna quindi, arrivando fino al 2021, la vittoria dell'anno scorso di Ganna Bernal, una curiosità, nel 1912 a vincere non fu un singolo ma una squadra, la squadra dell'Atla, guardatelo bene cari amici, perché tra poco il nostro torteo prenderà in largo, verrà così trasportato da Parma fino all'Ardiglia, da Rino quindi in Genova e lo farà attraverso l'Official Green Parrier del Giro d'Italia, parliamo quindi di una realtà che ha creato una bellissima sinergia con il Giro d'Italia, parlo di una realtà che ci porta in ogni angolo, la scoperta di ogni angolo del nostro territorio, della nostra penisola, un po' come il Giro d'Italia, parlo quindi di Tred Italia. Per farlo nel migliore dei modi, do il benvenuto sul palco a Sabrina De Filippis, direttore business regionale Tred Italia e a Bermani, la vostra responsabile commerciale regionale Tred Italia. Buongiorno innanzitutto e benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti.